Quasi tutto è pronto, canti da megavalli, ecco lì! Partiti! In vantaggio Mr. Gotham davanti a Battier, Mujaidó Caffeina, Palmieri, River Kay, Linus Pauling, Eisenheim, Roero e Samitri. All'inizio della curva in vantaggio Battier, davanti a Palmieri, Mr. Gotham, Mujaidó Caffeina, River Kay, Roero, Linus Pauling, Eisenheim e Samitri. Poco prima dell'ingresso in dirittura prosegue in vantaggio Battier, davanti a Palmieri, Mr. Gotham e Mujaidó Caffeina. I cavalli entrano in dirittura, con Battier in vantaggio lungo la corda, davanti a Palmieri, Mr. Gotham, Mujaidó Caffeina, Roero, Eisenheim, Linus Pauling a centro pista e Samitri. E sempre in vantaggio Battier, davanti a Linus Pauling a centro pista, con all'interno Roero lungo la corda, Mr. Gotham. Seguono Palmieri, Mujaidó Caffeina passa, Mr. Gotham, davanti a Roero, Battier, River Kay e Palmieri. In vantaggio Mr. Gotham, davanti a Roero, prosegue in vantaggio Mr. Gotham, davanti a Roero, River Kay e Battier. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.